una vecchia battuta recitava cos'è il calcio 22 uomini con calzoncini bianchi che corrono dietro un pallone e poi e poi vince la germania ecco identificate l'elemento teutonico in max verstappen e siete a posto vince sempre lui dicono ma se non fosse per la macchina no non è vero perché lui questa volta dimmola non aveva la macchina imprendibile guardare perez per credere ma la barca del team lui se l'è caricata sulle spalle ed è andato a vincere da solo è stata un'impresa e lui se ne è reso conto perché per la prima volta appena uscito dalla macchina si è buttato a pesce sul suo popolo quello dei meccanici dei tecnici dietro nel transcend come un qualsiasi checobagnaia marco marquez sul podio sorrideva mai successo prima quando nelle gare precedenti dava l'impressione di aver appena spezzato la pratica con burocratica pignoneria per pensare già alla prossima così senza allegria questa volta si è reso conto invece di aver scritto un capitolo della storia uguagliando le otto pole position consecutivi degli intorsi proprio lì a dimmola dopo 30 anni esatti dalla sua scomparsa max come airton quindi beh non proprio come conduzione di gara come fame di vittorie come pignoleria nella preparazione della macchina certamente sì come persona beh non facciamo accostamenti impropri diciamo solamente che è in atto un buon passaggio di testimone e basta dopo quest'ultima gara si è notato che la ferrari ha tratto un notevole giovamento dal pacchetto di novità messe in campo peccato che le abbia portate pure la mclaren e con maggior profitto visto i risultati il broncetto comparso sul viso del principino leclerc già all'inizio di campionato pareva dovesse distendersi in un sorriso e invece niente arriva per la seconda volta in poco tempo un arrembante lando norris che gli ruba la merenda speriamo che la figura del pilota monegasco non assomigli sempre di più a quella di paperino personaggio in coabitazione con la sfiga forza charles che arriva a monte carlo timorah comunque ha rappresentato uno spaziacque di questo mondiale la musica è effettivamente cambiata adesso i due team mclaren e ferrari si sono molto avvicinati quasi si toccano all'astronave red bull anche se questa volta il trio magico ha lottato di mezzato infatti perez piastri e science erano fuori dalla transe agonistica dei loro capitani e c'è da prevedere atmosfera da battaglia vera quando potranno fornire il loro apporto alle strategie dei rispettivi team la ferrari ha fatto effettivamente il salto di qualità non è certo il tracciato del santerno che può fornire indicazioni probanti dei miglioramenti ottenuti questi si potranno valutare dopo monte carlo intanto basti un solo un particolare per consolare per la prima volta che la red bull ha avuto problemi per il consumo anomalo delle gomme mentre la ferrari ha corso sul velluto ma vi pare poco e se in un futuro prossimo avventuro la red bull dovesse vedersela con mclaren e ferrari da inseguire c'è poco da ridere potrebbe succedere il popolo ferrari sta e ci crede già